Questo è Fregosi Ah, Fregosi Lindo apre subito il gas vuole vedere che succede dietro Campana di meno 29 Campana di meno 29 Lindo non c'è il governo seguita dalla valetta 8, 4, 9 Tranquilla, vai tranquilla, dai 141, 181, 849 Ancora Lindo Ancora Linda In prima posizione La Chiari La Lune Questa è l'Eco La Lune La Lune E ancora Rossi 181 E 829 Alice Rossini Campana di 25 5 Piede a interno a Rossi Rossini Rossini Chiude Naccari In seconda posizione Rossi in colma sola Ancora Linda A prendere punti Vediamo se c'è accordo tra di loro Ma vengono sotto le altre atlete Ebbene Vediamo se c'è accordo tra di loro Ma vengono sotto le altre atlete Guarda che c'è merry 9, 19, va via la Rossi, 181,6, va via la Rossi, rimane sola anche Lucia Corbasova, vediamo se tra sole devono far chiara, purtroppo c'è stato questo buco, Rossi va via, Lucia continua la sua azione. 8, 181,6, ancora Rossi e Lucia Corbasova, Iana che controlla in prima posizione, azione di Linda Rossi, 10, 17, uscirà Corbasova, mani alle ginocchia, buissima l'azione dopo le volate, Linda Rossi decise, è andata via, ora ci prova la 7,60, Enrico uscire lo strappo. Ancora punti, 181,6, esistono ormai solo le due, la Linda Rossi è ormai al doppiaggio delle atlete, ha un problema che si stacca, Rossi, Cantana, Lucia Corbasova, mezzo giro di pista, mentre la Rossi può prendere fiato, aggancia e si appora al gruppo, e va di nuovo, va via di nuovo la Rossi, 181,6, Lucia Corbasova, brava Lucia, applauso all'atleta Junia Marese della Repubblica Sceca, che sta facendo un grado, rimasta sola, con Linda Rossi, ancora stessi punteggi, 181, ma sta quasi riprendendo anche la Corbasova, la Corbasova, può prendere il gruppo e recupera, si può agganciare il gruppo, e segue, Campana per Linda e per Retti Martina, che ora accelera, in prima posizione, in quinta posizione, ecco la Linda, che va a prendere ancora punti di meno 10, 181, e arriva il 6, ora fa la curva, traguardo per il 6, 6, punti al numero 6, meno 9, Campana per Linda, si può agganciare ora, Lucia Corbasova, che può prendere il gruppo, 181, abbiamo un gruppo doppiato, è il numero 6, che va a prendere punti adesso, numero 6, ancora punteggio di meno 7, Campana per Linda, Coda ha doppiato due volte il gruppo, la Rossi, 181, il 6, prenderà il punteggio al prossimo passaggio, meno 5 per Linda Rossi, meno 6, per la Lucia Corbasova, meno 7 per il resto del gruppo, si, si, ok, Linda va al punteggio di meno 4, e a punteggio, Lucia Corbasova, l'applauso alla ragazza, Lucia Corbasova, categoria Juniores, anche lei, su tutta la gara in desla da 4 a 5, e va a fare il suo ultimo giro, ecco la seconda, ultimo giro, ultimo giro, ultimo giro, ultimo giro, ultimo giro, arrivo Lucia Corbasova, arrivo Lucia Corbasova, arrivo Lucia Corbasova, arrivo, 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 ecco il posto per il 7.60, Martina Ferrezzi,